ciao martina ciao ti piace la danza? eh sì è la mia vita sei golosa? beh sì conosci questo snack? ma certo è duplo nocciolato leggero è l'unico che mangio perché non mi appesantisce è buono e mi lascia leggera in forma duplo nocciolato leggero ma tu non l'hai mai mangiato?